Si chiarisca una volta per tutte cosa si vuole fare dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona se lo è chiesto il responsabile sindacale Will Medici Paolo Calabro e se lo chiedono in tanti tra i problemi del presente e le prospettive future. Andiamo con ordine, caso dermatologia prima c'erano due medici, uno è stato trasferito sul territorio, ne è rimasto uno, è andato in ferie, servizio azzerato, chiaro no? E il polo medico a Barcellona e il polo chirurgico a Milazzo, prospettive future. Per il dottore Calabro c'è il rischio che il Cutroni Zodda diventi un ospedale di comunità con riabilitazione e lungodegenza. Se Barcellona dovesse perdere la chirurgia, ha aggiunto Calabro, perderà un pilastro fondamentale. Altro che polo medico. Fatte dichiarazioni che seppur non direttamente stridono fortemente con quanto annunciato alcuni giorni fa dal sindaco Roberto Materia che aveva incontrato il manager dell'ASPA Gaeta Rosirna e dal quale aveva ricevuto rassicurazioni sul miglioramento del servizio di emergenza attraverso il completamento dell'organico del pronto soccorso, sul potenziamento di cardiologia, garanzie per la riabilitazione cardiopolmonare e per il completamento del padiglione del Cutroni Zodda ad oggi incompleto. Infine la possibilità di usufruire dei servizi inerenti il day surgery, cioè la chirurgia di un giorno.